Sono Agostino Caputo, faccio parte del team Euroansa in Puglia. Sono un consulente di Euroansa dal 2018. Mi ha sempre affascinato il mercato, comunque quello finanziario. Venivo da un'altra realtà che era quella dell'immobiliare. E niente, il tutto è nato da un sabato mattina. Parlavo con lui, con lei, con mia cugina, con Umberto, mi ha parlato di questa opportunità. Cercavano ovviamente giovani motivati, che volevano intraprendere questa strada qui. Mi sono buttato e sono ancora qui. Sta andando molto, ma molto bene. Sono seguito, ho supporto sia in Puglia che qui su, in Toscana. Sono del parere che se semini bene e hai ovviamente le spalle larghe, grazie alla struttura e alla società, si riesce sempre comunque a far bene, a portare i risultati, perché alla fine sono sempre risultati quelli che contano. non è calcistico, quindi grazie a Dio sta andando molto, molto bene e mi sto togliendo tante soddisfazioni. La cosa più bella, parlo ovviamente a livello soggettivo, è la gioia dei clienti quando comunichi l'ottenimento del mutuo o magari quando si va a rogito. Io ho da circa due anni messo praticamente in mutuo questa consuetudine, ovvero il giorno della stipola faccio una foto, ricordo con i clienti che manteniamo, perché rimane sempre impressa nella loro memoria. Cioè il fatto di regalare a loro la gioia più grande, che è quella dell'acquisto della prima casa, è la mia soddisfazione più grande. Ma non è una frase fatta, cioè nel senso questo è quello che vivo io, quello che accade proprio nella mia realtà. Magari amici, altri che vedono sui social, magari foto, altro, o il passaparola. Sì, oltre ai segnalatori che abbiamo, ma il passaparola, alla fine il metodo di lavoro e la pubblicità migliore è quella, perché gente che si è trovata bene ne parlerà sempre con il parente, con l'amico, con il collega di lavoro e di lì ovviamente è la soddisfazione più grande quella, rendere felici la gente. Che poi è uno dei principi ovviamente della società. C'è sempre quello slogan, persone prima di tutto, ed è vero. E che è quello che ripropongo sempre sui social quando posto appunto o un post per quanto riguarda un prodotto nello specifico o le foto con i clienti stessi.